Ci è ricascato nel giro di due settimane. È finito di nuovo in manette un giovane straniero di 24 anni, adesso collocato agli arresti domiciliari, per essersi scagliato contro i poliziotti all'uscita di un supermercato. Gli agenti erano intervenuti dopo una segnalazione al 112 in via Regione Siciliana, nella zona del quadrivio Spina Santa di Agrigento, all'uscita di un supermercato, dove il giovane indagato aveva ripetutamente infastidito, secondo la ricostruzione investigativa, i clienti dell'esercizio commerciale, a cui chiedeva denaro in maniera insistente. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto si è subito lanciato contro di loro e gli investigatori hanno dovuto faticare non poco per ricondurlo alla ragione, tanto che due poliziotti hanno riportato dei traumi e sono dovuti ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, i quali hanno indicato una prognosi di dieci giorni. La stessa scena si era verificata a cavallo di Ferragosto in un supermercato di via Crispi, sempre ad Agrigento.